Spero che vada tutto bene perché oggi faccio un collegamento, c'è il mio assistente, ci sono un po' di problemi perché qua sta piovendo tantissimo, datemi solo qualche segnale se state insomma ricevendo se va tutto bene. Oggi io sono qui per la prima volta con voi perché insieme a me ho quello che è il vostro docente di una disciplina che è una disciplina molto importante, non vedo ancora dei segnali vostri però spero che vada tutto bene, che voi altri stiate ricevendo, controllo solo perché non vorrei che ci fossero dei problemi, non vedo ancora delle vostre chat, vi conferma e questo devo dire che mi preoccupa un po'. Ciao Anna. Ah molto bene, grazie, grazie, grazie. Quindi vuol dire che state iniziando ad arrivare. Molto bene. Enrico, non vedo i vostri nomi perché sono con B-Live e non riesco a vedere il vostro nome però sento bene mi stanno dicendo, bene, 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 sono contenta. Allora come vi dicevo oggi sono venuta anch'io all'università con voi perché intanto aspetto che voi vi colleghiate un po' alla volta perché il nostro nuovo docente o meglio la nuova disciplina che inizierete a riparare oggi che è la tradizione vedita e la Bhagavad Gita è un appunto un docente che io ci tenevo appunto a presentarvi. Grazie, qualcuno mi scrive, forza Anna, grazie, grazie. Vedete perché io non sono una nativa digitale, ecco come tanti, però insomma cerco di vivare il cervello, di far funzionare le cose. E quindi come vi dicevo Giacomo Bonaveglio che è il vostro docente nella disciplina importante della tradizione medica della Bhagavad Gita è un... ci tenevo presentarvelo perché non siamo riusciti ad avere un momento di presentazione come togliate i docenti nel salotto di Anna e quindi mi pareva giusto e ospitale dargli il benvenuto su POCIS alla LUX di Università della Conoscenza. Adesso io lo farò entrare con me e così lo conoscerete, eccolo qua, grazie, eccolo qui, grazie Giacomo che ci sei, non si capisce perché ce n'è uno in più, abbiamo l'anima del VEDA che ci assiste di fianco, adesso non si preoccupare perché ti esisterò poi mentre pari. Eccolo qui, grazie Giacomo, benvenuto tra noi, benvenuto su POCIS e soprattutto grazie per aver accettato questo mio invito perché so che sei molto impegnato e quindi ti ringrazio per il tempo che dedicherai a noi. Io vorrei parlare un po' di te ai nostri amici di POCIS perché non ti conoscono ancora però mentre invece so che tante altre persone invece ti conoscono per le tue attività, inizierei un po' proprio dalla tua storia, già dal fatto che tu sei nato in India, giusto? Sono nato in India. E quindi tu ho vissuto con l'India? E sono cresciuto in India fino ai 13 anni. E quali sono i tuoi ricordi di quella vita in India? In che parte dell'India abitavi? Io abitavo, sono nato e abitavo a Bombay che è la più grande città, il centro punzante dell'India. Però è una città meravigliosa, con mille aspetti diversi e ho dei bellissimi ricordi di infanzia. Crescere in India è una cosa straordinaria. Io ho fatto anche se c'è qualcuno che ha letto Kipling. Io ero proprio come i bambini raccontati da Kipling, giravo per strada ed era una vita meravigliosa. Ho imparato proprio vivendo in strada. Io, bambino europeo, bianco, insieme a tutti gli indiani di cui non ho altro che fantastici ricordi d'affetto, d'amore nei miei confronti. E questa è una caratteristica dell'India. Ma quindi tu ti sei trasferito dall'India per venire subito qua in Europa oppure sei andato in altre parti del mondo? No, mia madre soprattutto voleva che crescessi con la formazione italiana, quindi a 13 anni mi hanno trasferito in collegio a Torino. E quindi deve essere stato un salto enorme per te? Era un salto enorme, sì, perché io prima abitavo in albergo in piena libertà, infatti giravo in albergo per strada senza problemi in un collegio cattolico. E' stato un salto enorme. Vero, è stato un salto enorme. Ma tu sei di questo vissuto sino a 13 anni, voglio dire, sino a 13 anni è già un bel vissuto, no? Assolutamente. E' importante, voglio dire, questo imprinting, diciamo, da un punto di vista, noi qua siamo su focus, il ministero della vita, si seguono molto i percorsi nella spiritualità, ecco. Quindi questo tuo vissuto in una terra dove tutti quanti quando diciamo l'India pensiamo subito alla spiritualità, no? Ecco. E pensiamo, cioè, che si debba comunque in qualche modo, cioè, respirare, ecco, questa dimensione diversa da quella europea. Ecco, te hai lasciato già, se te lo porti ancora dentro oggi, cioè, a parte il vivere in libertà, insomma, come dicevi tu, ma l'imprinting, ecco quello da un punto di vista della spiritualità, ecco. Assolutamente, sì, la spiritualità dell'amore. Come dicevo, in qualunque altro paese un bambino molto audace e molto baldanzoso che corresse per strada ai 7, 8, 10, 12 anni, fin quando ho fatto questa vita, sarebbe probabilmente stato maltrattato, forse rapito, comunque maltrattato. Io ho solo ricordi d'amore, però la conoscenza della spiritualità indiana, l'aspetto conoscitivo, l'ho appreso solo dopo, quando ai 40 anni ho intrapreso un percorso spirituale. prima no, avevo solo questo aspetto, ripeto, d'amore, che è l'aspetto, secondo me, forse più importante della spiritualità, l'amore verso il divino, l'amore verso il prossimo, sia il prossimo di famiglia che il prossimo in termini geografici, quindi le persone che incontravo per strada. Ripeto, non ho in tutte queste mie giornate, ore, passate per strada, non ho un ricordo schiacevole, solo ricordi... Questo è un grande patrimonio, ecco, i bambini hanno degli ricordi così, ecco, piacevoli, sappiamo che anche tanti bambini purtroppo sono vicini della violenza degli adulti. ma quindi se tu sei arrivato qua, appunto, in Europa, qua in Italia, quindi sei andato in questo collega, sei cresciuto e poi hai fatto i tuoi studi, no? Sì, poi ho fatto la mia vita, ho fatto anche l'università a Torino e ho iniziato anche a lavorare qui, sono andato anche in America a studiare, ho avuto questa buona fortuna, quindi una vita tutto sommato tranquilla. è arrivato la solita crisi, diciamo, per me fortunata, ai 40 anni in cui mi sono detto non basta il lavoro, la carriera, i soldi che sto perseguendo, devo guardare oltre. avevo abbandonato, pur essendo cresciuto in un collegio cattolico dei fratelli delle scuole cristiane, avevo abbandonato... Ho avuto un'educazione piuttosto rigida. Un'educazione molto rigida, ma avevo abbandonato, come quasi tutti i miei compagni di classe, che io parlo in collegio, in cosiddetti interni, abbiamo abbandonato la via cattolica proprio per la costrittività. Ecco, la tradizione vedica è l'opposto di questa costrittività, è quello che ho trovato scoprendo dopo. Non ho avvicinato la tradizione vedica perché ero cresciuto in India, l'ho scelta fra tante, ho studiato le religioni del mondo. Avevo un bellissimo libro, tra l'altro scritto da un prete protestante nell'ottocento, a mezza ottocento, di cosiddetta teologia comparativa. Ho iniziato di là e questo prete era molto obiettivo, devo dire, caratteristiche che trovo... Questo testo per consigliare, scusami Giacomo se ti interrompo, questo testo per consigliarlo ai nostri amici di Pocus... E' un testo che ho trovato su una bancarella di Boston quando ero in Copeniti, quando pensavo poi di dedicarmi, era un bellissimo testo... E' un testo che non penso si trovi di lì, infatti dopo averlo letto e averlo gustato ho detto vabbè cerchiamone altre di teologia comparativa... Ci sarà questo... Beh, tra la facendo potrai durante le tue lezioni aiutare i nostri amici, dargli delle indicazioni su dei testi, se c'è qualche cosa in italiano che tu conosci che puoi raccomandare... Assolutamente sì, questo libro è in inglese e non penso sia stato tradotto... Quello che volevo dire, sono andato presso varie librerie sia laiche sia cattoliche a cercare testi di teologia comparata... Perché questo signore che si chiamava Clark, il reverendo Clark ha detto io inizio una nuova scienza di teologia comparata... Che non è solo le storie delle religioni... E' proprio di comparare i vari capitoli, l'etica, il comportamento, i sacramenti, la ritualistica nelle varie religioni... Questo è una cosa molto interessante il discorso... E lui ha detto io inizio una nuova... Ho detto vabbè, cento anni fa lui l'ha iniziato... Andiamo a cercarlo... E non ho trovato niente... Niente di tutto questo... C'è... Per chi conosce... E' pubblicato in italiano... Però sono una quindicina, ventina di libri... Si chiama Puech... Il nome dell'autore... P-U-E-C-H... E' la storia delle varie religioni... Molto ben fatto... Però non era di teologia comparata... Come cercavo... L'unico posto al mondo in cui ho trovato dei testi di teologia comparata... Guarda caso... E' l'India... Dove si trovano dei testi che comparano le teologie delle varie religioni... Sotto i vari profili che dicevo... Il post mortem... La morale... C'è l'etica... E così via... Ci sono dei testi ma... Non mi risulta che ci siano in italiano... I testi molto... Molto interessanti... Però per me è stato formativo questo testo... Voglio dire ai nostri amici che... A proposito di questo argomento... Domani sera... Giacomo... Domani sera se tu puoi... Sei dici... In diretta alle 21... Nella rubrica... Nel salotto di Anna... Che io condigo ogni 15 giorni... Adesso in questo periodo dovrò fare qualche salotto in più... Perché abbiamo degli ospiti che devono venire... Ci sarà Marco Moretti... Che è un psicologo... È un psicoterapeuta... E a proposito di questo argomento... Lui ha fatto un libro... Che si intitola... Cristo e Buddha... Due... Cristo e Buddha... Due maestri... Un solo cuore... Questo è il titolo... In realtà lui in questo libro... Fa un studio comparato... Come dicevi... Un po' tu prima... Fa un studio comparato... Tra il senso il Buddha... Quindi che cos'è che... Unisce... Unisce... Interessante... Cominciamo a dare qualche bibliografia con oggi... Poi tu andrai avanti e aiuterai i nostri amici... Con altri titoli... Sicuramente... E quindi tu da lì hai iniziato... Dicevi... Sì... Trent'anni fa... Ho iniziato a leggere le varie teologie del mondo... E ho fatto... E uno degli incroci più importanti... E' stato sul messaggio d'amore... Che esiste nel cristianesimo... E che non esiste in nessuna religione antica... Pre cristiana... Salvo... Quelle orientali... Soprattutto... In primis quella vedica... Che è molto più antica... E il messaggio d'amore... Infatti... Ho fatto... Degli incroci... Fra il messaggio di Cristo... Cristiano originale... Quindi... Dei Vangeli... Sia apocrifi che... Sinottici... E il messaggio... Dell'antico... Dell'antica tradizione ededica... Immaginatevi che... L'amore... Nell'Ayurveda... Che è la medicina dei Veda... La medicina che cura... Non solo il corpo... Ma anche la mente e l'intelletto... L'amore è considerato... Uno dei costitenti essenziali... Ciò che muove il mondo... Ciò che muove il mondo... E non esiste... Se guardiamo le religioni... Non esiste nell'ebraismo... Non esiste... Nella tradizione... Greco-romana... Non esiste... Nel Zoroastrismo... Cioè... Tutte quelle... Religioni... Pre-cristiane... Che escludono quelle indiane... In quelle indiane esistono tutti... Buddha... L'ha poi perfezionato... Successivamente... E quindi... Tu ti sei appassionato... A questi percorsi... E hai fatto questi studi... Però... Quello che è interessante... Perché... Tu prima eri... Un grande manager... Insomma... Ci hai passato... Per dei percorsi... Che potrebbero avere... Essere in odore... Di tutt'altro... Che spiritualità... Insomma... Beh... Ho deciso... Di approfondire... Quest'altro aspetto... Che non bastava... Insomma... Ho fatto l'NBA... Negli Stati Uniti... Ad Harvard... È molto prestigioso... Tutto il resto... Ma non basta... Noi siamo... Quindi... Tutto spirito... Questo è... L'essenza... Del messaggio spirituale... Vedico... Adesso... Sto facendo... Con un gruppo di lavoro... Proprio... Lo studio... Del capitolo... Settimo... Della Baratita... E parla... Proprio... Dell'importanza... Dello spirito... Prima di ogni altra cosa... La classificazione del mondo... Molto diversa... Dalla nostra... Ma io vi chiedo... Pensando ai nostri amici... Alcuni sicuramente... Sono già molto legati... A queste tematiche... Delle altre... Magari... Ci stanno facendo... Desso... Questo percorso... Per quale... Per quale motivo... Noi dovremmo fare... Questi studi... No... Sui genitori... Per quale motivo... Cos'è che dovrebbe... Perché la tradizione... Vedica... Perché la tradizione... Vedica... Esatto... Allora... La risposta... Prima di tutto... Bisogna rispondere... A una domanda... Perché la spiritualità... Questa è una domanda... A cui non si può rispondere... Con una semplice logica... Ma... Bisogna rispondere... Anche con altri argomenti... Di tipo intuitivo... La spiritualità... È... Il nostro vero essere... Bisogna essere convinti di questo... Quanto meno bisogna conoscere... Perché... Noi... Conosciamo tutto del mondo... O quantomeno... La parte di mondo... Di cui ci occupiamo... Qualcuno si occupa anche... Delle emozioni... Qualcuno studia delle cose... Quindi... Si occupa dell'intelletto... Ma pochissimi ci occupiamo dello spirito... Anche in ambito cristiano... Allora... Prima di tutto... Bisogna rispondere in modo positivo... Cerco di capire cos'è lo spirito... Ecco... La tradizione... Che... Ha... Coltivato... Di più... Gli aspetti dello spirito... È quello... Vedico... Prima di tutto... Perché è una tradizione spirituale... Ininterrotta... L'unica che è ininterrotta... Per qualcosa come nove millenni... Sì... Ripeto... Fino a nove millenni... Nel Mesovitico... Ci sono tracce... C'è un'antica civiltà... Adesso... Chi ha una... Una... Una mappa sottomano... Nell'attuale... A est... Dell'attuale Pakistan... Quasi... Al confine... Con l'Afghanistan... C'era un'antica civiltà... Che si chiama... Mergar... Mergar... È una civiltà... Che è data... Fino al quarto... Quinto millennio... Avanti Cristo... Da lì... C'è... Un collegamento... Con... Una delle civiltà... Più importanti... Delle civiltà... Fluviali... Più importanti... Che si chiama... Di Harappa... E Mohenjodaro... Erano le due città... Più importanti... Ci sono anche altre città... In questo gruppo... Nella valle dell'Indo... La civiltà... Come la conosciamo noi oggi... Nasce... Sui grandi fiumi... Sono... L'Indo... In India... Il fiume giallo... In Cina... Il Nilo... In Egitto... E... Il Tigre... E l'Eufraque... In Mesopotamia... Queste quattro civiltà... Si sono poi interrotte... Hanno cambiato... Insomma... In Egitto... E in Mesopotamia... C'è l'Islam... In Cina... Ci sono altre tradizioni... Quella dell'Indo... È rimasta... Si è trasferita... Questo sono... Ricerche recenti... Che hanno portato alla luce... Questi fenomeni... Non tutti... Li considerano... Scientifici... Al cento per cento... Però... Le controprove sono molto... Ho letto parecchi libri... Le controprove sono abbastanza notevoli... Cioè... Questa civiltà... Quando c'è stato... Una parte... Un affluente dell'Indo... Che si chiama... Al Sarasvati... Quando si è seccata... Si è creata... La cosiddetta civiltà... Indoeuropea... Cioè... Una parte di questi... Abitanti... Della civiltà dell'Indo... Si sono spostati sul Gange... E hanno fatto... La parte indiana... Del gruppo indoeuropeo... L'altra parte è venuta qui in Europa... In Medio Oriente... Perse a Medio Oriente... Infatti... Siria... Deriva dal nome... Syria... Che in sanscrito... È sole... Perché si vedeva il sole... Tramontare... Andando... Fini... E poi sono arrivati qui in Europa... Quindi... Questo... Ma... I fondamenti della civiltà di... Mergar... Sono rimasti... Sono cambiati... Ovviamente... Ma non... Dei cambiamenti traumatici... Nella civiltà di... Di Harappa... E nella civiltà... Cosiddetta vedica... Della... Della... Valle del Gange... Dove... Si sono tracenti... Questi... Abitanti... Della... Valle del Lito... Quindi... È... La civiltà... Ininterrotta... Più antica... Che abbiamo... A cui possiamo fare... Questo... Dire antico... Non basta... Però... Il punto è... Che... Questa... Civiltà... È sempre... Rimasta... Incontaminata... Dalle lotte per lei... Questo... Per esempio... Non si può dire... Né dell'Islam... Né del Cristianesimo... Né tantomeno... Dell'Ebraismo... Che era molto legato... Alle sorti... Del popolo ebraico... Cioè... Erano dei pensatori... Teorici... Nella storia... Ci sono... Degli imperatori... Dei re... Che si sono interessati... Di... Spiritualità... Ma... Lasciavano... Il passo... Ai teologi... Ai saggi... Cosiddetti... Vici... Se qualcuno... Ha mai... Sentito parlare... In Sanskrit... In questo termine... I ricci... Sono i saggi indiani... Questi saggi... Erano interotti... C'è... L'imperatore Ashok... Quello che introdusse... Il buddismo... In India... L'imperatore Ashok... Fece... Introdusse... Aiutò... Il buddismo... A penetrare... Ma ospitava... Dei dibattiti... Molto obiettivi... In cui... Metteva a confronto... I vari... I vari credi... Che c'erano allora... In India... Questo nel quarto secolo avanti Cristo... Terzo o quarto secolo avanti Cristo... Poi... Un imperatore più recente... Che è del... Sedicesimo secolo dopo Cristo... Un imperatore islamico... Che... Cercò... Se vogliamo... Diedere una mano... Allo risultato delle religioni... Ma senza interferire... Anzi... Lui voleva... Cercare di mettere assieme... Tutte le religioni importanti... Che c'erano in India... Allora... Che era... Ovviamente... L'Islam... Che era la sua religione d'origine... Ma anche l'induismo... Ovviamente... Il cristianesimo... Che era molto forte... Il jainismo... Il sikhismo... Insomma... Che... Tutte le religioni... Che erano già presenti in India... Questi sono gli unici due casi... Però... Sempre di persone... Che cercavano... Un equilibrio... Fra i saggi... Che non imponevano la loro linea... Quindi questi rishi... O muni... Anche un altro termine... Sanscrive... Che sentirete... Spesso... Hanno potuto sviluppare il loro pensiero... Se volete... Un riscontro... L'India è l'unico paese attuale... In cui c'è un fenomeno che si chiama di turismo spirituale... Qualcuno non l'apprezza tanto... Ma il turismo spirituale non è nient'altro... La volontà... Che è iniziata nel settecento... Di viaggiatori occidentali... Di cercare se stessi... In India... Girare per l'India... Sentire... Ciò che capitava... E cercare di mutuarne degli insegnamenti... Per la propria crescita spirituale... E esiste ancora oggi... Questa... Parecchie persone vanno in India... Proprio per cercare se stessi... Parecchie persone... Giacomo... Adesso... Anche in Italia... Devo dirti che... A me è capitato come giornalista... Di andare delle conferenze stampa... Dove appunto... Alcune agenzie presentavano proprio i percorsi di turismo spirituale italiano... L'italiano quindi... Nei monasteri... Nei conventi... Sta cominciando... Diciamo... Si è allargato anche all'Italia... C'è tante persone dall'Italia... Vanno in India... E ci sono anche tante persone... Dell'Italia... Che girano anche in Italia... Ecco insomma... Non è interessante... Si... E' raro che vadano al di là della tradizione cattolica... Ecco quello che... Sicuramente non al di là di quella cristiana... Ecco quello che... In India vengono... I cristiani... I cattolici... I ebrei... Io li ho incontrati di tutte le religioni... Non sono... Non vengono per cercare una religione... Ma la spiritualità... Che è l'essenza... Dovrebbe essere l'essenza delle religioni... Quindi è molto particolare quello... L'altro... Il tour dei monasteri... Il più veramente turistico... Lì è di conoscenza in India... Io sono andato presso alcuni ashram... Come si chiamano gli ambiti di spiritualità indiana... E c'è gente alla ricetta di se stessi... Non alla ricerca dei bei luoghi... Sono anche dei bei luoghi... In quel senso lì è abbastanza unico... Con centinaia di migliaia di persone che vanno ogni anno... Quindi... No lasciamo... Voglio lasciarti finire... Poi io voglio farti una domanda... No prego... Se vuoi fare una domanda... Io stavo elencando le altre religioni... Per andare verso... Per capire la spiritualità vedica... L'altra cosa che io trovo fantastico... Che è un messaggio... Che colpisce profondamente... Non solo la persona religiosa... Ma anche il laico che cerca se stesso... Il messaggio cosiddetto impersonale... Del mondo vedico... Cosa vuol dire impersonale... Noi siamo abituati... Diciamo... Noi che seguiamo le religioni del libro... Parlo di cristianesimo... Islam... Ebraismo... Il libro essendo... Con la L maiuscola... Essendo la Bibbia... Siamo abituati... Al culto del Dio personale... Cioè... Una persona... Allah... Per... I islamici... Dio padre o Cristo... Per i cristiani... E così via... Delle... Delle persone fisiche... Diamo dei messaggi... Molto personali... Ma l'impersonale... È qualcosa... Di fantasticamente diverso... Che è contemplato... Nella tradizione medica... Cioè... Tu puoi credere... In un divino... Senza credere in una persona... Questa è una differenza... È una differenza importante... Per cui... I giorni monoteiste... Certo... Esatto... Io... 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 Dico... Il... Ecco... Parliamo delle religioni monoteiste... La tradizione occidentale... Dice... Che solo le religioni del libro... Sono monoteiste... Lo sento continuamente... Da tutti i saggi... Di storia... Di teologia... Non è così... La tradizione vedica... È fondamentalmente monoteista... I dei minori... Non sono molto diversi... Dai santi... Della tradizione cattolica... E anche... Della tradizione islamica... Assolutamente... Sono... Un qualcosa di molto simile... Ma... Brahman... Il Dio supremo... È unico... Nella Bhagavad Gita... Krishna... Lo ripete... Continuamente... Brahman... È unico... E dovete... Rendervi conto... Dell'unicità di Brahman... Ma... Brahman... Non è... Un Dio... Come Dio Padre... Personale... Rafficurato da una statua... Non necessariamente... Le due... Posizioni... Si contemplano... Quindi... Questo ruolo impersonale... Permette anche... Un laico... Di avvicinarsi... A questa tradizione spirituale... A un laico... Che creda... Che... Nel mondo... Esistono... Dei principi fondanti... Fondamentali... Che non cambiano... Nel tempo... E nel luogo... Cioè... Non sono diversi... Oggi... Due mila anni fa... La nascita di Cristo... Cinque mila anni fa... Quando c'era... Arapa... E negare... E così via... E non cambiano... Di qui... All'India... Al Giappone... Alla Cina... Agli Stati Uniti... Ecco... Chi crede in questo... Può avvicinare... Anche la tradizione vedica... E trova... Una grande... Risposta... Perché... Nella tradizione vedica... Pur essendo in mano... A tantissimi... Saggi... C'è una coerenza interna... Formidabile... Una coerenza di tutti i principi... Base... Della tradizione vedica... Per cui... Non esiste... Il concetto di comandamento... Esiste solo il consiglio... Quando tu vuoi... Quando ti approccia anche un grande maestro... Se lui ti dà dei comandamenti... Sappiate... Se l'avete incontrato... Anche il maestro indiano... Se ti ha dato dei comandamenti... Sappiate che non segue la tradizione vedica... La tradizione vedica è fatta di consigli... Poi tu sei libero... Nel tuo... Libero arbitrio... Dice... Di seguirli... O non seguirli... Lui ti dice semplicemente... Io ti consiglio questo... Se no ti capita questa... Non c'è nessuna pena corporale... Quindi è un'altra ragione... Per avvicinarsi a questa tradizione formidabile... Questa coerenza e assenza di dogmi... Perché il comandamento porta con sé il dogma... Che è la base... Adesso si sta un po' togliendo... Nel mondo... Cristiano... E cattolico... Soprattutto... L'altra ragione... Che trovo anche formidabile... È l'assoluta inclusività... Della tradizione vedica... Le altre religioni sono esclusive... Lui è di un'altra religione... È diverso da me... Non va bene... La tradizione vedica... È assolutamente inclusiva... E include anche... Nella... Accezione più ampia... Include anche... La religione di due... Che sarebbero stati bollati... Come erettici... Non lo sono stati in India... Nella tradizione vedica... Sono Buddha... E... Jain... È il fondatore del Jainismo... Mahavir... Per chi lo conosce di nome... Eh... Questi due hanno contestato... Molte cose... Eh... Della tradizione vedica precedente... Che si chiamava... Appunto... Il Brahmanesimo... E... Però... Sono considerati parte della tradizione... Anche in alcuni casi... Considerano... Il cristianesimo parte di questa tradizione... Quindi c'è un'inclusività assoluta... Scusa se ti interrompo... Stavo leggendo giusto un messaggio... Eh... Che ha scritto... Eh... Salvatore... Salvatore Cosimane... Dice... Secondo me... Non sempre una persona religiosa... Può essere anche spirituale... Mentre una persona spirituale... Abbraccia le religioni... Ecco... Pretende di essere la sola... E siamo stati così per tanti secoli... Per non dire millenni... Come il cristianismo... Non è spiritualità... È... In contraddizione... E ripeto... Esclude... Nella tradizione vedica... È incluso anche il cosiddetto ateismo... Io lo intendo... Come... Ateismo... Come impersonalità... Non obbligo di credere in un Dio personale... Anche se non credi... In... Maometto... E in Allah... E in Dio Padre... E Cristo... E in Yahweh... Tu puoi... Considerarti spirituale... Non appartenente a nessuna religione... Infatti... Quando mi chiedono... Ma tu di che religione sei? Io dico... Io sono un buon cristiano... Quando mi trovo con dei buoni cristiani... Sono un buon... Islamico... Quando mi trovo con dei buoni islamici... Ho vissuto a lungo... In un paese islamico... Con dei buoni islamici... Con cui... Ho fatto delle cose... Sono un buon induista... Con un buon induista... Cioè... Non... Riesco ad adattarmi... Non mi considero appartenente a nessuna di queste religioni... In India... Dove c'è un... Inclusività... Ancora oggi... Molto forte... Anche se questo governo... Attuale... Di... Marenda Modi... Sta cercando un po' di... Ridimensionarlo... L'inclusività... Fa parte... Della vita di tutti i giorni... Io incontro... Continualmente... Appunto... Induisti... Islamici... Sikh... Jaini... Anche... Zoroastriani... Perché... Immaginate... Che l'India... Ha accolto... Dopo... L'invasione... Araba... Islamica... Della Persia... Ha accolto... Gli ultimi... Rifugiati... Della... Antica religione... Della Persia... Che era... Zoroastrismo... E loro sono ancora... Una parte... Sono piccola... Parte dell'India... Ma... Molto importante... In termini... Di... L'incisione... Nella vita economica... E culturale... Nel Paese... Anche come presupposti... Spirituali... Voglio dire... Come... No... I Parsi... Sono più... Guarda... I Parsi... Che sono... I Zoroastriani... Settuali... Si chiamano... Parsi... I Zoroastriani... Che sono rimasti... In Persia... Tra l'altro... Sono meno... Di quelli... Che sono in India... I Zoroastriani... Si chiamano... Farsi... Con la F... Quelli... In India... Si chiamano... Parsi... Con la P... I Parsi... In India... Sono... Molto... Assimilabili... Agli... Ebrei... In Occidente... Ma... Non sono mai... Stati... Perseguitati... Durante... Il Colonialismo... Britannico... Erano... Molto... Vicini... Nei Colonizzatori... Perché... Si... Ci sono... Somiglianze... Di... Apparenza... Il Parsi... Sembra un... Europeo... Del Sud... Non... Non è... Non è... Non ha le fattezze indiane... Però... Non sono mai stati perseguitati... Anzi... Sono... La più grande... Azienda... Indiana... Attuale... Si chiama... Tata... E... Tata... É guidata... dei Parsi, è un'azienda Parsi che ha mai subito dell'imposizione, tanto è che è potuta ingrandirsi enormemente più degli altri. Quindi abbiamo parlato delle caratteristiche del messaggio vedico, anche se uno si è avvicinato o si avvicina al buddismo o al cattolicesimo. Era una domanda che volevo farti, perché ad esempio scegliere il veda e non il buddismo, o comunque qual è la differenza? Il buddismo è una tradizione fantastica, io sono stato in parecchi monasteri buddhisti, ho fatto per chi le conoscesse dei ritiri di meditazione vipassana che sono molto importanti, ci si ritira per una settimana, dieci giorni a meditare tutto il giorno per 12 ore, quasi 12 ore al giorno, di meditazione in silenzio e si rimane con se stessa. Il buddismo è estremamente interessante e rispetto alla tradizione dei veda è molto cerca prosenti, per quello che è molto più conosciuto in occidente. Ma le radici del buddismo nascono dai veda, infatti la religione, la lingua, originante del buddismo e il sanscrito, che era quando è nato Buddha la lingua prevalente, Buddha come si sa Buddha, era un principe indiano che poi arrivò all'illuminazione. Se uno cerca solo la fede, allora è meno interessante, ma se uno ha delle aspirazioni intellettuali più alte e vuole darsi una risposta spirituale che sull'etica sia la fede, sia l'emozione, sia la ragione, l'intelletto, allora i veda hanno un sistema di conoscenze molto ficcante, molto profondo e molto coerente fra di loro. Io non ho mai trovato delle incoerenze in quello che ho letto e studiato. Non so se hai risposto alla tua domanda. Quindi se un buon cattolico vuol capire meglio la sua cattolicità senza rinunciare alla sua fede, conoscenza il veda e la Bhagavad Gita lo aiuta molto. Altrettanto dicasi per uno che si avvicina al buddismo, capisce molte, perché il buddismo lascia aperto molti capitoli, i veda no. Bravo, mi hai detto una cosa molto interessante perché mi sono occupata, adesso c'è il suo Londra, la Marquenza Rimpocet, che appunto sono stata presidentessa della sua associazione qua in Italia, e lui, e ho seguito i suoi insegnamenti dello Yundong Ban, che sarebbe già di Disney più antico, però vedevo che lasciava comunque, come dicevi tu, degli interrogativi, almeno a me lasciava degli interrogativi. e quindi sarò felice di camminare con te, con i veda, e di approfittare di questa opportunità di averti come docente, come nostro docente per poter così riuscire a… sai, non si può fare i tutti soliti, io penso questo, nella vita non si può fare i tutti soliti, però quando la vita ti offre delle opportunità per poter approfondire, bisogna cavalcarle, assolutamente, e secondo me tu sei la mia opportunità, come per tutti i nostri amici di Focus, per approfondire un discorso che di solito noi così sfioriamo, latere, no, senza avere una consapevolezza, una connessenza molto più radicata. Una cosa che pensavo, tu prima hai parlato, sei quindi degli indoeuropei, no, quando è stato scoperto nell'Occidente, perché cosa è successo, no, quando c'è stata questa apertura, no? Questa è una domanda importante e ci porta all'altra domanda dei contatti, diciamo, fra la parte, questo è storicamente accettato, la parte occidentale del popolo indoeuropeo, cioè gli europei e i persiani, e i medio orientali, e la parte orientale che erano indiani. Questo non era conosciuto, si pensava a due strutture separate, hanno avuto solo un momento di incontro che è stato durante la conquista di Alessandro Magno dell'Oriente, del suo impero ai confini con l'India. Lui, come penso tutti conoscono, si è portato dietro dei filosofi, dei sociologi, infatti le uniche valutazioni, tra l'altro della sociologia e dell'India, l'India non aveva una profonda conoscenza di questo, è stato fatto all'epoca di Alessandro Magno. E c'è stato qualche contatto tra le filosofie orientali, e occidentali, anche qualche trasmutazione, anche se questo è più difficile. Ma il contatto più importante è avvenuto nell'Ottocento, fino al 700-800, quando furono fatti degli studi più scientifici e si scoprì che l'Indiano, la lingua indiana e le lingue europee, erano troppo vicine per non avere alcune origini. Vi dico solamente, perché somiglia molto all'italiano, i numeri sono normalmente ciò che viene cambiato di meno, perché si usano tutti i giorni nelle varie lingue. E in Hindi, per dire, in sanscrito è poco diverso. Uno è ec, due è do, tre è tri, tim, scusate, quattro è char, cinque è punch. Quindi era ovvio, studiando questo, che ci doveva essere, non può essere, poi va avanti fino a dieci, e sono molto molto simili. Quindi non ci poteva non essere stato un contatto originale. Siccome gli inglesi allora nell'Ottocento erano i padroni dell'India, non si poteva dare una risposta che i colonizzati attuali erano i colonizzatori di un tempo, sarebbe stato un assurdo. Allora si è trovato un popolo caucasico originante degli indoeuropei che avrebbe avuto un ramo orientale, il cosiddetto ramo satem, è un ramo orientale, è un ramo occidentale, è un ramo centum. E questa cosa che è rimasta fino a oggi è stata contraddetta da numerose, da numerosi studi più recenti, però è rimasto così come era stato concepito nell'Ottocento. La cosa più importante è che gli studi fatti dagli inglesi e soprattutto dai tedeschi hanno portato la scoperta di questa radice comune. E alcuni dei tedeschi di allora, non gli inglesi, avevano anche dato una risposta diversa e molto simile a quello che vi ho detto attuale, cioè dell'origine comune della civiltà indo-europea nella valle dell'Indo, con una parte nella valle gangetica all'Oriente dell'altra parte in Europa e Medio Oriente. Quindi questo, i studiosi sono i tedeschi, Max Müller, Alfred Rosenberg addirittura portò la svastica dall'India ai nazisti, anche se la croce unciniate è di diverso orientamento, però tanto era l'apprezzamento e poi vari studiosi cominciarono ad apprezzare la tradizione indiana vedica e fra questi soprattutto Schopenhauer, i tedeschi Schopenhauer, ovviamente legati a Max Müller, Schopenhauer e Nietzsche che hanno diffuso e approfondito il mercato vedico, il messaggio vedico. Il mondo vedico, perché si chiama così? Perché si chiama così? E arriviamo al secondo punto. Si chiama così, non da tutti, si può chiamare antico indiano, alcuni lo chiamano induismo. Ma che differenza esiste tra vedico e induismo? Ecco, io lo differenzio in questo modo, io e altri studiosi. L'induismo è la pratica corrente, questa è un'altra differenziazione che non abbiamo passato, essendo inclusivo la religione vedica ci sono chi ha una cultura vedica ma non induista, cioè legge, studia la Bhagavad Gita, le Upanishad, i Veda, i Vedanga, tutti i testi sacri della tradizione vedica ma non è induista, cioè la pratica corrente molto più adatta a chi vuole una versione personale della religione. Quindi questa è la distinzione. Mi stai dicendo che l'induismo è un'interpretazione personale, quindi è una condizione. Si, personale e molto più, come si può dire, terra terra, pratica, per la persona che non si fa tante domande, che ha bisogno di un Dio. La versione è più popolare, è popolista, è popolare, è popolista. Popolare, io direi popolare adatto alle culture meno sofisticate. Invece se ti fai delle cose. Nella concezione indiana c'è quello che si chiama l'ishtadeletra, il tuo Dio, che è molto simile ai santi nostri. Io ho abitato a lungo a Napoli. Il culto di San Gennaro, di Santa Lucia, di tanti santi Santa Teresa, di tanti santi importanti a Napoli è veramente molto simile all'ishtadeletra dell'induismo. E fra l'altro bisogna parlare meglio al plurale, come dicono molti studiosi, di hinduismo e non di hinduismo, perché sono molto diversi. Ci sono le correnti Shiva Ita che vedono Shiva come il Dio Supremo, le correnti Vaishnavita che vedono Vishnu come divinità Suprema, chi segue Ganesh, ma tantissimi. In India infatti c'è una battuta che dice ci sono tanti dei quanti ci sono indiani. C'è anche Dio. Dicevo che ogni indiano ha un suo Dio e ha i suoi Dio. Sì, è un iperbole, però per far vedere che c'è un, per esempio, un parente saggio e spirituale e elevato dalla propria famiglia viene alzato a Dio, viene anche venerato dopo morte. Diciamo che è un'interpretazione molto libera della spiritualità. Assolutamente, ma non hanno mai avuto una chiesa, una chiesa unica e soprattutto questa propensione alla inclusività. Tutto era includibile, anche religioni molto diverse. La critica veniva… quando, tra l'altro volevo anche aggiungere questo, per dire la straordinarità dell'India, nel 400, anzi 350 circa, prima di Cristo con la Shokka, quasi tutta l'India divenne buddista. Passò dal bramanesimo, come si chiamava la tradizione vedica allora, che era in crisi. Per molte religioni vanno in crisi quando diventano solo formali e si limitano alla ritualistica. E così è successo dal bramanesimo. Il buddismo fu un notevole rinvigorimento e tutta l'India diventa buddista. Stai dicendo una cosa, Giacomo, importante, che quindi la parte della ritualità ha un suo peso, perché riesce in qualche modo a coinvolgere molte persone, cioè avere dei ritmi di appartenenza o appartenere a un rito diventa un elemento incollante. E' estremamente importante, infatti nei libri dei Veda ci sono normalmente una sezione dedicata solo alla ritualistica. Però quando la religione diventa solo ritualistica, diventa solo superficie. La ritualistica deve aiutare la spiritualità, disciplinarla, farla crescere. Invece quello del bramanesimo era morente, era solo superficiale, c'erano i riti, i sacrifici. Il significato, poi ne parleremo per chi vorrà seguirlo, il significato del sacrificio vedico è molto diverso, anche se usa la stessa parola italiana, è molto diverso dal sacrificio cristiano. Il sacrificio vedico somiglia molto al percorso di crescita spirituale e psicologica della moderna psicologia occidentale. Transpersonale. Transpersonale. Teniamo conto che nei Veda si parla anche di inconscio. E' una scoperta avvenuta 3, 4, 5 mila anni fa, non si sa quando, ma migliaia di anni fa. Noi l'abbiamo scoperto solo 100 anni fa. E si chiama karma shaya, inconscio vedico che è il deposito dei karma, cioè del tuo imprinting della vita attuale e anche delle vite precedenti. E' diverso dalla cassa, o stiamo parlando della stessa cosa, dell'archivio universale o meglio, io dico sempre un po' come se fosse l'artiste insomma, ecco, della nostra anima, delle nostre vite. Non ho capito. Dicevo che questa visione che ti davi appunto di questo posto dove appunto ci sono le memorie, no, delle nostre vite, anche quelle precedenti, non so se hai capito bene. Si. E se tutto questo appunto può essere paragonabile a quello che viene chiamato akasha, no, a questo grande… Sì, nella tradizione buddista, quello di cui parlo è personale, cioè il nostro inconscio, quello che Freud ha definito 100 anni fa come luogo di tracce non conosciute alla nostra attività di coscienza, di consapevolezza. L'inconscio era già stato scoperto dai vedici come inconscio personale dove sono depositati le tracce della nostra vita attuale, si sa che chi fa una fanciullezza felice ha poche tracce negative, chi ha qualche trauma nell'infanzia ha delle traumatologie forte nella propria ziche da adulto e infatti la psicologia freudiana andava ad analizzare, anche Jung andava ad analizzare queste tracce nell'infanzia. Loro dicono no, non solo nella vita tua da infante, ma anche nelle vite passate. Infatti il problema, il tema della tabula rasa che ha tanto, come si può dire, condizionato il dibattito filosofico dei greci non esiste per i vedici. La tabula è già riempita dei contenuti delle vite precedenti. Questo è molto interessante perché comunque in Veda sono sicuramente un'anticipazione di Freud, di Jung e di tutte le altre scuole. Sì, tra l'altro ha ancora delle scoperte da fare, che molti psicologi fanno ancora, Jung studiò molto in Veda e fu molto vicino, lui soggiornò anche in India e scrisse e mutuò dei concetti importanti, per esempio quello dell'inconscio universale che corrisponde nel mondo vedico chiamato la consapevolezza universale, è diverso. L'immaginario collettivo. È l'immaginario collettivo, con tutte le idee che lui mutuò dai veda e c'è ancora molto da fare. La psicologia vedica e soprattutto quella yogica, della tradizione yogica, poi parleremo delle varie scuole vediche, è molto profonda. Ancora adesso ha delle cose da dirci. Io proporrei, se tu sei d'accordo, adesso iniziamo questo nostro bel viaggio insieme sui Veda e sui Veda. Sarebbe interessante se volessimo poi organizzare, ne parliamo magari, insomma ne parliamo anche con Enrico Badantini, di fare proprio la psicologia vedica per dare un'opportunità di un percorso anche alternativo e comparativo con quello che può essere la nostra psicologia più occidentale, insomma europea. Nella Bavardita si incontrano molti esempi di quello, però si può fare qualcosa ad hoc. Beh lo facciamo, nella nostra lux abbiamo, sappiamo che potremmo aggiungere una disciplina in più, grazie a te, caro Giacomo, che so che sei molto prezioso per noi. Noi abbiamo già raggiunto la nostra ora, come vedi è volato. Forse sì, già ti guardavo l'ora, forse è meglio fermarti qua e andare avanti. Magari mi fermerei qui oggi per non iniziare anche nuovi discorsi, tipo appunto i testi, le paniche, dicendo, di cui mi sarebbe già vissuto poterne parlare oggi, però, vista l'ora direi che ci conviene concludere per non aprire, per poi dover interrompere, ecco, degli argomenti, se sei d'accordo Giacomo. Va bene. Devo dirti che mi hai convinta, io la prossima volta vengo ancora con te a fare la lezione e poi vediamo, insomma, che a te faccia piacere di condividerla e quindi, insomma, per oggi, insomma, ti ringrazio tanto Giacomo, sei veramente un fonte inesauribile, i nostri amici avranno modo di scoprirlo. Io ho avuto sempre grande stima di te per quelle volte in cui noi ci siamo incontrati, non dimentiterò mai la prima volta a casa tua, in questo posto bellissimo dove lì abita, su in collina, con un personaggio molto, molto interessante, che è col quale magari faremo un collegamento, lo dicevamo prima con Giacomo, faremo un collegamento telefonico, vedremo di organizzare e parleremo di questa persona, vuoi parlarne tu, Giacomo, della nostra Giaia? Ciao. Adesso? Un attimo, due minuti solo, proprio per introdurla, perché se la prima ci darà questa grande opportunità, veramente faremo una cosa molto importante, molto bella, in collegamento. Sì, penso che potremmo averla in collegamento, soprattutto se si fa in quest'ora, che è tardi alla sera per loro, ma... Jai Arao è una maestra vedica che studia unicamente i Veda, è la mia maestra spirituale e con lei io seguirò le lezioni poi della Bhagavad Gita che vi presento. Jai Arao ha una formazione come la mia, del più del mondo, poi si è dedicata però totalmente, una cinquantina di anni fa, all'insegnamento della tradizione vedica e vedantica. Vedantica è una scuola particolare dei Veda che si basa più sulla logica, ed è quello che a me piace, che mi convince di più, perché la logica mi convince della validità del percorso che sto seguendo, è ciò che fa Jai Arao con me. Anche lei è un esempio interessante, perché voglio dire Jai Arao è una persona che è nata in un certo contesto, no? E ha lavorato anche lei grande manager, no? Poi al certo punto ha fatto il messaggio. Esatto, si è dedicato all'insegnamento di Veda. Ma è una cosa che lei lo fa nell'ambito che di solito appunto non è tanto spirituale, cioè cerca di portare i valori della logica dove? Nel mondo? Nel mondo del lavoro, dell'azienda, sì, è molto focalizzato come diciamo noi i cambiamenti si fanno dalla testa e lei va alla testa della nostra società a tentare di proporre sia i vertici della nostra società, a proporre le nostre, diciamo gli insegnamenti della Ghilter. E noi saremo lieti e onorati di averla, grazie a te, e quindi vedremo di organizzare anche questo collegamento con lei. Benvenuti. Ciao Giacomo. Allora, ci diamo appuntamento tra 15 giorni allora. Tra 15 giorni. Tra 15 giorni. Ringrazio anche voi, forse non ho guardato molto così le domande perché oggi era la prima giornata e avevamo tanto di portare per introdurci insomma in questo mondo così interessante e così importante. Sì, ho letto qualcuno delle risposte, chi si è affacciato a questo mondo non si spaventi, è una cosa, veramente è un messaggio interessante e profondo ma allo stesso tempo facile per chi voglia esplorare la propria dimensione spirituale e psicologica. Sì, sono sicura che ci divertiremo se saremo bene tutti insieme. Allora, cari amici, io vi do appuntamento, intanto io, Anna Tavulinitorio, vi do appuntamento domani nel salotto di Anna alle 21, dove appunto avremo, come ho detto prima, Marco Moretti, dove parleremo di che cosa unisce e quindi in qualche modo abbiamo un attimo un appendice insomma della tua disciplina con Marco e anche lui sarà sicuramente molto interessante a questo percorso. Ecco, anzi, magari ne parliamo della psicologia, io vi chiederò appunto della psicologia dedica. Però abbiamo fatto una promessa, faremo anche noi una psicologia dedica, la porteremo a focus e così alterneremo. Abbiamo anche appena iniziato una rubrica che vi è un punto di ascolto, quindi diciamo psicologico, però sicuramente sarà molto interessante fare una comparazione tra queste realtà. E allora, cari amici, a domani sera col salotto di Anna e caro Giacomo, allora a fra 15 giorni nella nostra luce. Grazie mille. Grazie a tutti, a presto carissimi, a presto, arrivederci.